Ecco fanno i loro ingressi in campo, le due compagini Virtus Castelfrentano FC Chieti 1922, qua sul manto artificiale dell'impianto di Cepagatti. Sì, adesso ci sarà un minuto di riflessione in memoria di Anna Prang. Ecco, c'è la scelta, salutatevi. Forza ragazzi, andate a salutare, dopo vi ripiazzate là. Ecco la nostra panchina, i nostri ragazzi, tutti carichi ragazzi, se volete fare una foto ve lo faccio subito, su. Eh sì sì, piazzatevi, ok, piazzatevi, no no, perché dovete fare un minuto di riflessione.